E' di due feriti il bilancio dello scontro tra una Ford Fiesta e una Golf avvenuto poco dopo le 7 in via Mestri del lavoro a Schio. Uno scontro frontale, quello tra i due veicoli, che è coinvolto anche un terzo solo di striscio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Schio che hanno estratto il conducente della Fiesta rimasto incastrato nell'abitacolo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito è stato accompagnato all'ospedale di Schio. Ferito in modo più leggero anche il conducente della Golf. Indagini sono in corso da parte della Polizia Locale per definire l'esatta dinamica dell'incidente.